Conoscevo questa persona, questo signore, diciamo così che non è un signore, a sto punto, perché veniva spesso a fare colazione qui col bambino, con la moglie anche, però io con la moglie l'ho visto pochissimo perché magari veniva in orari che io ero andata via. Scambiavamo sempre dei discorsi, magari come sta andando la vita, del lavoro, di tutte queste cose qua, ma sembrava soprattutto una persona tranquilla vederlo così col bambino, non dava segni neanche di fronte al bambino, a dire che ne so, a essere un po' scazzato, un po' sulle sue, no, sempre gentile, cortese. Quindi sembrava una bella famiglia. Sì, sembrava una bella famiglia perché credo che domenica scorsa sono venuti insieme tutti e tre, io non ero presente, non ho potuto vedere, però erano abbastanza tranquilli a dare occhio così. Negli ultimi giorni non ha notato dei segnali? No, è venuto qui, che l'ho visto io, neanche una settimana fa col bambino, infatti mi sono detto un po' che non lo vedevo, ho pensato fosse fuori per lavoro, non gli ho chiesto sinceramente, però è stato gentile come al solito, ha scambiato due parole con me, come facciamo sempre, di come stanno andando le cose, e tranquillo, ha salutato, cortese e è andato via. Grazie a tutti.